Ogni sera succede sempre la stessa cosa, porto fuori il mio cagnolone, Bobby Biscuit, usciamo, ad un certo punto lui si ferma, una statua diventa, ed è sempre la stessa identica scena. Ci sono un sacco di volpi qua in giro, ormai sono, come dire, adottate, secondo me c'è proprio un po' di viscini che gli danno da mangiare, cioè fanno parte ormai dell'habitat, solo che Bobby Biscuit, cioè ste volpi, non è che gli stiano proprio simpatiche, quindi quando ne vede una, e questo succede ogni sera, si ferma, tipo hai presente i cartoni animati dove c'è il cane che si mette, le punta la preda, e io inizio a dire, Bobby, ai Bobby andiamo, andiamo, andiamo Bobby, comincio a tirare un po', è talmente forte che, cioè, posso anche tirare quanto voglio, non lo sposto mai, e allora passo, capito, cinque minuti di inferno a cercare di persuadere, allora c'ho tutte le mie tecniche ormai, c'ho il coso, il biscottino, sono un pessimo persuasivo, cioè non riesco neanche a convincere il mio labrador a non andare ogni volta a cercare di seguire la vo, perché poi mi strappa braccio, mi fa dei disastri, insomma, pensa quando fa freddo, c'è il ghiaccio, e lì la mia vita a volte è come il cattivo di mamma perso d'aereo, no? Come il cane che mi trascina per tutto e cerco di fermarmi, allora ho pensato di migliorare le mie tecniche persuasive, e sono incappato in questo articolo della Harvard Law School, che ha un corso in tecniche di persuasione, ho pensato che cosa c'è di meglio, quattro concettini semplici, due ricettine veloci impostate, una scorciatoietta veloce, così, per trovare la gognata soluzione. Ovviamente la persuasione è un'arte, ci vuole una vita, però volevo così quattro idee, quattro idee, non le solite robe che è il coso, il corso di master, che non lo so, quella roba lì, ho già letto miliardi di libri per persuasione, però alla fine dei conti, qualcosina in più. E questi signori segnalano queste quattro tecniche scientifiche, scientificissime, non so cosa si dice, però insomma sono autorevoli, che sono un po' meno usate, e che magari possono tornarmi e tornarti utili. La prima, trasformare l'ansia in eccitazione. Sai che di solito, pensa se uno deve iniziare una riunione importante, o se deve parlare in pubblico, o se deve fare una performance, è sempre molto teso, c'ha quell'ansia, no? E il suggerimento classico è, ehi, rilassati, calmati, respira bene, no? E l'idea invece di Harlow School è, no, invece tu devi cavalcare quel tipo di tensione per farla tua e portarla a tuo vantaggio. E tu dirai, Monty però, porca palletta, bastava vedere Rocky. Cioè, in effetti, Silvestre Stallone, peraltro non ho ancora visto il documentario su Netflix, voglio vederlo. Cioè, lui, in Rocky, più di una volta dice, ecco, perché la paura è come un fuoco, ti può bruciare, ti può scadare, sai, sono quelle cagate, esattamente. Quella roba lì, però, scientificamente provata. Dall'altro lato, giusto una segnalazione, Harvard, è anche vero che se uno è veramente nervoso, veramente teso, è meglio che prima ti calmi un attimino, perché se no, poi sbarelli. Però, diciamo, tendenzialmente ci sta il fatto di riframmare questa idea della paura in qualche cosa, invece, che giochiamo a nostro vantaggio. Ecco, nella mia esperienza personale, una conferma di questa teoria, è il fatto che, se devo parlare davanti a un pubblico, non è che vado lì, in mutande, ci abbatte, rilassato, così. Perché se no, no, non c'hai quella tensione. Invece devi avere un po' quella tensione che ti tiene su, no? Ti tiene come sinner che gioca. Non è che entra che sta dormendo. No, cioè, entra che ha una giusta tensione. Ognuno, ecco, ha un livello diverso di tensione, però negarla non va bene, cavalcava al 100%, va bene, la via di mezzo. È sempre la soluzione talmente facile, è sempre la via di mezzo. Vabbè, passiamo alla 2. Ancoraggio nella conversazione. Questo è un grande classico, però, effettivamente, in una negoziazione uno lo deve tenere a mente. Il suggerimento che loro danno, basato sugli studi di Kahneman, Pyrotaneman, Tversky, Tversky, i soliti, sei tu a fare il primo passo e a mettere nella testa dell'altra persona quello che è l'importo secondo te giusto, l'accordo secondo te giusto, in modo che, per un effetto di ancoraggio, è un po' come Steve Jobs quando presentava, no, l'iPhone, che diceva, ecco, ma non costa era mica 3.000, no, costa 4.99. Wow, grande Steve. Perché ti aveva ancorato a un prezzo più alto, quindi il prezzo più basso ti sembra più conveniente. Qua è un po' la stessa cosa. Anche qua, vantaggi e svantaggi. Da un lato, a volte funziona, nella mia esperienza, tu metti lì davanti un accordo e si inizia a modificare il tuo accordo, per cui sei già nel tuo territorio, stai giocando a casa tua in sostanza. Dall'altro lato, anche in questo caso, uno deve considerare il problema potenziale di partire con sta strategia. Se io inizio dandoti un priming, un ancoraggio che è molto lontano da quello che tu ti aspetti, se il mio interlocutore dici, wow, Monti, davvero vuoi un billion? Io volevo darti due cioccoli. Siamo veramente lontani. Allora questo può creare subito un distacco, un disinteresse. Il fatto che dici, guarda, cioè, proprio non ci arriviamo, e sto perdendo tempo. Non ti seguo neanche più, perché tanto, in ogni caso, non riusciamo a sposarci. E allora questo può essere il problema. Sviluppare, e questo è il motivo per cui hai della gente veramente brava a negoziare, perché hanno quella giusta sensibilità. In base al momento, in base alla situazione, in base alla tipologia di accordo, alla tipologia di interlocutore, sanno trovare il momento giusto per mettere davanti la loro proposta e a quel punto partire da lì. Tra parentesi, prima di vedere le altre due tecniche, ti ricordo, per il Black Friday, c'è l'offerta di 4Books al 95% di sconto. 95% di sconto, non so, io te lo dico, te lo dico, te l'ho detto. Non fartela sfuggire, 4Books.com slash Monti, c'è una caterva di roba sui temi della negoziazione, se ti interessa questo argomento. Numero 3. Sfruttare il potere del silenzio. Questa secondo me è importante e io non la uso mai, veramente mai. Esempio pratico, l'altro giorno ho avuto una negoziazione per un progetto e l'avevo portata a casa, alle mie condizioni. Ma proprio facile, sai quando stai vincendo facile e al posto di fermarmi e devi solo stare zitto ed è fasta. Dall'altro lato dicono, va bene, allora fermiamo così. Ho continuato, perché ero dentro, capito? E poi volevo aggiungere anche che, e bah bah bah. E questo ha, come dire, diluito tutto quello che era il valore percepito precedentemente. È incredibile come il silenzio se non lo potete. L'utilizzo del silenzio è in risposta a una proposta che tu non vuoi accettare o una cosa su cui non sei d'accordo. Al posto di dire, no, guarda, non sono per niente d'accordo, semplicemente il silenzio, un po' come nei film hollywoodiani, quando uno dice qualcosa ad Enzel Washington di Equalizer 1, 2, 3 o 25 e lui lo guarda. Non c'è una risposta, lo guarda e basta. E da lì si capisce, va bene, a posto così. È un po' quel concetto lì. Anche qua, insomma, per avere sempre un po' di contraltare, mi ricorderei il fatto che se tu ti metti lì a fare dei silenzi finti, impostati apposta, dopo un po' uno pensa che tu sia strano, vero. Quindi, silenzio sì, sia quando hai finito di fare la tua proposta, sia quando non vuoi dare una risposta negativa, ma semplicemente vuoi stupare e quel silenzio serve un po' da barrierina, però senza esagerare, perché se no, uno dice, vuoi parlare o no? E poi chiudiamo con questo risolutivo consiglio numero quattro, è quello di chiedere suggerimenti. Questo è controintuitivo perché di solito uno, quando negozia, pretende di essere il genio della lampada, sono tutto io, sono un fenomeno, sono tutte risposte, non preoccuparti, siamo tutto a posto. Invece l'idea è che per creare una relazione migliore, esporsi leggermente, chiedendo consigli, chiedendo suggerimenti al tuo interlocutore, invece può creare una dinamica più interessante. Questa è un'idea da illustrare, ecco, io devo dire lo faccio naturalmente questo, forse perché non so mai niente di niente, quindi chiedo, non ho problemi a chiedere qualche cosa se non ho capito o a testare l'altra persona per dire ma tu come la vedi? Forse la soluzione giusta, hai una soluzione migliore? Non lo so, ecco, troviamola insieme, quindi sono sempre abbastanza in quella lunghezza d'onda. Anche qua vedo il problema però, che a volte questo atteggiamento viene percepito come un atteggiamento di una persona insicura, incerta, con cui uno dice allora, ma questo, continua a fare delle domande, ma ce l'ha una risposta, sì o no? Ed è anche qua un'arma a doppio taglio, però anche in questo caso se uno ha la fiducia in se stesso di domandare, perché comunque tu sei competente e non domandi perché non sai, domandi per avere un altro punto di vista e allora diventa una conversazione interessante ma poi in qualunque momento tu puoi rientrare e portare tutta la tua conoscenza e sei a posto insomma. Questi i quattro consigli arvardiani, fammi sapere se ti sono tornati utili e io adesso li vado a testare sul buon vecchio Bobby Biscuit. Wish me good luck.